L'esigenza di concludere rapidamente l'iter amministrativo per la bonifica di un sito così dannoso per l'ambiente non pare aver caratterizzato l'operato del Ministero. Questo è quanto messo nero su bianco dai giudici del Tar del Lazio, che con una sentenza hanno dichiarato illegittimo l'annullamento della gara d'appalto per la bonifica di bussi sul Tirino. Nuovi sviluppi di una storia di cui per capirne la recente evoluzione bisogna tornare indietro fino al 2011, quando il Parlamento assegnò i fondi per la bonifica del SIN. Nel 2017, a seguito di un ricorso della Toto Holding riguardo la gara d'appalto, occorre ricordare che il Ministero dell'Ambiente rivendicò la legittimità dell'iter di assegnazione dei lavori, lavori che furono assegnati nel 2018 a una ditta belga. A gennaio 2019 il Ministro Costa avvenne in Abruzzo, dove definì corbellerie, le voci secondo le quali vi era l'intenzione di annullare la gara già giudicata un anno prima. Ma nel 2020 è valso tutto il contrario di tutto? Prima il Ministero dell'Ambiente ha misteriosamente dirottato i fondi per la bonifica verso il Ministero dell'Economia, per poi farli tornare lì dove erano destinati, al sito di interesse nazionale. Poi l'annullamento della gara, con quegli stessi argomenti avanzati dal gruppo Toto, che erano stati smontati nel 2017. La gara sanciva come chi doveva effettuare la bonifica, già pronta a partire, che poi sarebbe dovuta essere risarcita da Edison, che secondo la provincia di Pescara, il Tarre e il Consiglio di Stato è responsabile dell'inquinamento. Non sono state provate ragioni di impedimento a recuperare quanto si andrà a spendere, scrivono oggi i giudici, e l'annullamento ha di certo fatto guadagnare tempo a Edison, che mentre attende l'esito del ricorso in Cassazione riguardo le responsabilità, avrebbe dovuto presentare un nuovo progetto di bonifica che sarebbe potuto essere approvato a settembre 2021. Intanto però le tonnellate di rifiuti tossici continuano a inquinare la Val Pescara. Ma ora che l'annullamento della gara è stato dichiarato illegittimo, forse i lavori potranno partire prima, mentre lo Stato italiano è stato condannato al pagamento di 15.000 euro di spese processuali. Esultano il WWF e il Forum dell'Acqua. Su Bussi il ministro dell'Ambiente Costa dovrebbe chiedere scusa agli abruzzesi. Le bonifiche sono ferme da anni, da decenni, anzi. Questo non è più possibile, anche la procura di Pescara a nostro avviso deve battere un colpo per perseguire le responsabilità che sono a nostro avviso evidenti. Soddisfazione per la sentenza anche da parte di Fratelli d'Italia, del presidente del Consiglio regionale Sospiri e di Rifondazione Comunista. Tutti ora puntano il dito contro la 5 Stelle Sara Marcozzi, che aveva strenuamente difeso l'operato del ministro Costa.